allora ragazzi qua siamo a Chirunaschi sono le 1 e 10 del pomeriggio naturalmente come potete vedere il sole non c'è più qui ci sono tutti i cani l'allevamento che è il nostro amico Sebastian sono carinissimi guardate che musetti sono veramente carini eccoci eccoci loro eccoci anche a te ragazzi posto sperduto veramente per fortuna Sebastian ci è venuto a prendere all'hotel non saremmo mai raggiunte a destinazione già sentite? niente il vuoto il silenzio andiamo a costruire il litro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti